Il bollettino dei contagi della regione siciliana di oggi, 31 ottobre, è quello che registra il record di decessi nell'isola. Sono stati 18, esattamente come lo scorso 18 marzo. Anche oggi in Sicilia contagi da Covid sopra 900. Nelle ultime 24 ore infatti si sono registrati 952 nuovi positivi a fronte di 8.106 tamponi effettuati. Gli attuali positivi nell'isola sono adesso 14.402, di cui 962 ricoverati in ospedale, 122 in terapia intensiva, 5 in più di ieri e 13.358 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Sicilia si sono complessivamente registrati 21.758 contagi, 6.814 sono guariti. Con gli ulteriori 18 casi nelle ultime 24 ore, i decessi salgono ora a 502.